Beh, qualche somiglianza con la precedente Sportage c'è, come nel caso del rapporto tra vetro e metallo o della forma del montante posteriore, ma in generale i designer sembrano aver voluto raccordare gli spigoli un po' dappertutto e le vigare e arrotondare la carrozzeria. Il frontale più alto della linea di cintura e i fari anteriori arretrati fanno sembrare la macchina più corta, mentre le luci dietro orizzontali aiutano ad alleggerire un porterlone piuttosto grande. Molto grandi e appariscenti sono anche i